Siamo particolarmente orgogliosi di aver ricevuto questo premio che rappresenta un riconoscimento del grande lavoro che Takeda fa da anni per coniugare l'innovazione con i valori che appunto contraddistinguono l'azienda. È un progetto fatto in collaborazione con l'Associazione Pazienti Amici Italia e con l'Associazione Amici Lazio e con l'Istituto Psicologico Europeo. Un progetto in cui siamo riusciti a supportare effettivamente la voce del paziente, il poter dare la possibilità al paziente di raccontare una storia su questa storia e poi costruire una trama teatrale. In Italia ci sono migliaia di pazienti che soffrono di malattie infiammatorie croniche intestinali e queste persone sono in attesa. Sono in attesa di una diagnosi, di una terapia, purtroppo anche di una recidiva e soprattutto sono in attesa di essere riconosciuti. Quindi abbiamo pensato che può essere utile per queste persone raccontare di sé e della malattia durante dei laboratori teatrali e questo può essere molto utile mentre si sviluppa alla ricerca scientifica.